Io non me posso sentire male, io non me posso addannare, io non me posso fare male per una partita di calcio, ma detto questo voi sapete che io la faccia non ho problemi, ce la metto sempre e vado quindi a fare le pagelle di Venezia-Roma, di tutto quello che abbiamo visto, ma ci tengo a farle oggi e a non farle domani perché voglio mettere in chiaro le prestazioni dei singoli, prima che domani poi mi scordo esattamente tutto quello che voglio dire, detto questo vi saluto immediatamente, ciao e bello a tutti da me, vi invito a lasciare mi piace per supportare i pagelloni su questo canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella così non vi perdete mai le notifiche, c'ho pure un primo, scusatemi, canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo e vi chiedo scusa se non la pubblicherò oggi, sicuramente la live reaction, ma non c'ho nessuna voglia adesso di rivivere tutta la partita, tutto quello che è successo e di mettere me a editarla, non esiste proprio, devo sbollire la rabbia e lo farò domani a mente fredda, c'ho pure un terzo canale YouTube non di calcio, se siete interessati i canali li trovate in descrizione oppure se cliccate qua, partiamo dal Venezia e dalla prestazione che hanno fatto, ovviamente andrò a dare i voti ad ogni singolo calciatore per la prestazione fatta, a Romero gli dò, guarda, ragazzi ero un deciso tra 7 e 7 e mezzo, alla fine ho deciso di tagli 7, non voglio onestamente esagerare con i voti, però ragazzi ha fatto qualche uscita e qualche parata molto importante che ha consentito al Venezia poi di ottenere quel risultato, anche il portiere è stato decisivo in tal senso, sugli esterni in realtà faccio una valutazione uguale, Mazzocchi e Aps, poteva essere un 5 e mezzo per entrambi, ma alla fine ho deciso di dargli 6, dice perché? Perché alla fine hanno letto ragazzi, Aps per carità ad esempio ha causato, quindi dò 6 entrambi, Aps per esempio ha causato il rigore, ma ha fatto pure quel salvataggio pazzesco sulla linea rovesciata, che cazzo ha fatto non lo sa manco lui, e poi ha dato quella palla ad Henry, Henry chiamatelo come mi pare, che a momenti ce ne fa pure un altro, e hanno sofferto ovviamente i nostri calciatori, ma alla fine la partita se la so, se la so ha portata a casa, e niente ho deciso di dargli la sufficienza, per Mazzocchi entra Ebu e I, e ho deciso di dargli 6 e mezzo, perché ci ha avuto secondo me un ottimo impatto nella partita, ha fatto il suo dovere. A Caldara gli do 6 e mezzo ragazzi, 2 secondi, entra e fai i gol, ovviamente prendi molta consapevolezza dei tuoi mezzi, e poi è ovvio che a livello mentale alzi la sticella e vai a fare una prestazione più sopra le righe ragazzi, ci sta poco da fare, so anche gli episodi che ti capitano, trasformi un'occasione in gol, la prestazione la alzi, ti senti più forte, c'è stancazzo da fare, ovviamente siamo riusciti a farlo segno a noi dopo 275 anni, 6 e mezzo, C'è Caroni comunque la sufficienza gliela d'or ragazzi, noi abbiamo fatto 2 gol e loro non hanno fatti 3. Krnigoiz, vabbè quello là, voto 5, secondo me è stato il peggiore del Venezia, e anche il subentrante Sigurdsson, gli do mezzo voto in più, ma non è che hanno fatto poi tutto sto granché, sicuramente quelli più in ombra del Venezia. Detto questo passiamo ad Ampadu, ragazzi miei gli do 6 e mezzo, tanta sostanza, prestazione preziosa, fa densità ragazzi miei, ma in ogni zona del campo, 6 e mezzo secondo me se lo merita, e faccio lo stesso discorso per Busio, Busio anche tecnicamente parlando ragazzi è un giocatore veramente molto, molto valido, e non me oglio di lunga troppo perché non voglio far durare sto video 10 ore, quindi gli do 6 e mezzo, Aramo è stato sicuramente uno dei migliori ragazzi miei, quantità dei palloni pazzeschi recuperati, assist, freddissimo dal dischetto, c'è sta poco da fare, gli do 7, non aggiungo altro, a Tesman subentrato, se non mi sbaglio subentrato, sì, a lui, non ha giocato male, onestamente gli do la sufficienza, non ha fatto cose, però è stato sicuramente utile alla causa, Okereke ragazzi, ha giocato bene, ha fatto una bella partita, do 7 anche a lui, ha scheggiato il palo, ci ha avuto più di qualche situazione, lotta a mezzo al campo, bella prestazione, voto 7, Keane gli do 6 e mezzo, in alcuni tratti della partita ragazzi, mamma mia, imbrigliava la palla, non ci stavamo a capire niente, cioè tecnicamente è bravo, non mi ricordo se ha fatto lui la ruleta o che, ma secondo me anche lui ha fatto sicuramente una signora partita 6 e mezzo, Modolo, Modolo, chiamato come cazzo mi pare, gli do 6, ha sfiorato anche il gol, e a Zanetti ragazzi, per l'atteggiamento, per la prestazione, per il risultato, ditelo come cazzo mi pare, ho scritto 7, ma la mia intenzione era quella di tagli 7 e mezzo, e lo vado anche a modificare, che cazzo io voglio dire, passiamo ai nostri, allora, lui Patricio non c'ha colpe, ha fatto pure un paio di miracoli, io gli do 6 e mezzo, per la prestazione che ha fatto, credo che sia quello più incolpevole, in assoluto, per quello che è successo, quando c'è stato da metterci le pezze, le pezze ce le ha messe, il divario, e il risultato poteva essere anche, più ampio, guardando le occasioni, pericolose, soprattutto verso la fine della partita, che ci hanno avuto, quando ci stavamo sbilanciando, a Mancini ragazzi, chiedo 5, Mancini disattento, Mancini, ma un po' tutta la difesa della Roma ragazzi, se ci abbiamo, difficoltà, e subiamo così tanti gol, è anche, soprattutto colpa della difesa, una volta la posizione, una volta una cosa, una volta un'altra, poi magari, all'interno della partita, gli interventi decisivi, la cattiveria agonistica, comunque, fanno vedere qualcosa, però non basta ragazzi, a Mancini gli do 5, con Bulla onestamente, mi pensavo pure peggio, do 5 pure a lui, ogni tanto insicuro, però ogni tanto ha tirato fuori, i cosiddetti, e qualche chiusura decente, l'ha fatta ragazzi, non basta ovviamente, 5 pure a lui, entra Carlesperza, gli do 5 e mezzo, per con Bulla è entrato, c'ha avuto un'occasione, da rete, però è entrato, che hanno provato a fare, ma non è che ha inciso poi così tanto, l'unico sufficiente, del pacchetto difensivo ragazzi, secondo me, è i Bagnets, ottimo stato di forma, sta bene a livello fisico, tatticamente sempre messo bene, è il migliore della difesa della Roma, è quello che c'ha anche meno colpa, è quello che sbaglia molto di meno, Carlesperza 5 e mezzo ragazzi, quando ci sta da spinge, spinge, mette pallone in mezzo, ma faccio sempre lo stesso discorso, non basta assolutamente, vero e tu, voto 5 e mezzo, inizio della partita ragazzi, nonostante il gol subito, ha recuperato 4 o 5 palloni di fila, e non sto esagerando, poi anche lui è andato in calo, di prestazione, e ha cominciato a sbagliare, anche lui in realtà, prima ha recuperato tanto, poi ha cominciato a sbagliare, la cattiveria all'interno della partita, ogni tanto ce la metteva, ma è 5 e mezzo, più di quello non mi sento dettaglielo, Cristante è da 4 e mezzo, ha fatto più danni della grandine oggi, te voglio bene, ma mi dispiace, hai fatto veramente danni, colpa sua sul gol di Galdara, ha causato il calcio di rigore, ci ha avuto anche responsabilità, se non sbaglio, sul gol del 3 a 2, Deo Kereke, o come cazzo si chiama, a Esharawi, ed ho 6 più onestamente, perché è sempre quello che là davanti, sembra crederci più degli altri, avete sentito il rumore dello stomaco, non ho pranzato, e non c'ho neanche voglia di pranzare, lotta, sbraccia ragazzi, crea occasioni da rete, tira, ci mette sempre le palle, Esharawi, quindi 6 più, assolutamente mi sento di darglielo, sufficienza anche per Pellegrini, non stava benissimo a livello fisico, è il capitano e si vede, lotta anche lui ragazzi, ma il nostro problema, lo ripeto secondo me, è più che altro la fase difensiva, seppur la fase offensiva, regà, creiamo tanto e concretizziamo poco, però alla fine là davanti, non abbiamo giocato male, diciamoci la verità, 6, 6 più, anche per Pellegrini, Shomuro dopo ho deciso di dargli 6 e mezzo, ragazzi, col più assist, finalmente Murigno lo butta dal primo minuto nella mischia, e lui comunque ha risposto presente, mi è piaciuta la prestazione, mi è piaciuta la reazione, è uno che ha perso tanto nelle gerarchie, da quando è arrivato Abram, perché in realtà vi ricorderete, nel precampionato giocava lui, però dimostra da averci le palle, questo ragazzo merita più spazio secondo me, 6 e mezzo, ad Abram più che sufficiente, però 6 e mezzo non glielo voglio da, glielo voglio da 6 più, anche se pure lui se meriterebbe in realtà il 6 e mezzo, perché oggi ha lottato veramente tanto, ha fatto il gol, ha preso il palo, 6 e mezzo con lui, ha preso il palo, scusatemi mi ero completamente dimenticato, e oggi è un Abram diverso, da quello delle passate partite, quindi assolutamente, a me onestamente è piaciuto, poi il risultato è stato quello che è stato, e a Murigno ragazzi gli do 5, a Murigno gli do 5, perché ha cambiato più moduli all'interno della partita, poi ha cercato di risistemare un po', di equilibrare la squadra, però manca equilibrio, manca equilibrio, e comincio a pensare che la responsabilità sia anche appunto dell'allenatore, per quanto Murigno dice, la Roma non si è rinforzata, sono andati via dei giocatori, ne sono arrivati degli altri, però ragazzi a livello tattico li mettete un campo, e se c'è sto squilibrio, secondo me ovviamente le responsabilità sono le tue, anche le tue, e Murigno assolutamente da 5 quest'oggi, non aggiungo altro, ragazzi vi saluto così, una buona giornata a tutti voi.